passano gli ufo si fabio stiamo in diretta dello stadio stiamo rispondendo daemon master prego salamandra parli ciao a tutti i ragazzi io sono daemon master93 venuti in questo nuovo video è il mio primo video del mio canale e oggi ne parliamo come fare in questo canale la prima cosa inizialmente farò video gameplay con il canale principale sarebbe daemon master93 e la è il tapo che sarebbe la operazione con dreyest te oggi è in casa mia faccio il cameraman questa volta si fabio stiamo in diretta dello stadio stiamo rispondendo daemon master prego salamandra parli che prima di farai i video insieme a dreyest e forse con tussi da carne c'era una mattina magica che mi illumina la testa molto bella ho un'idea si spende la sua la banda insieme a dreyest lucida sindoli da me solo se ce la faccio problemi tecnici vlog vlog speciali e tanto altro soprattutto registro sull'isbos e computer faccio la seconda superiore la scuola abbastanza da un piccolo io faccio la radio ci danno parecchio a studiare ci danno parecchio a studiare quindi non so se ho tutto il tempo necessario per montare i video se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi quindi aumentate non dividete daia daia su 93 e demon master è tutto noi ci vediamo al prossimo video che vado per tutti ciao